In questo momento ci troviamo all'interno del cantiere in località di Titelle, come potete vedere dalle immagini sono stati già predisposti silos per il cemento, ci sono bancali interi di cimento impilati e soprattutto sono aumentati i mezzi a disposizione della ditta Pembau e questo significa che c'è la volontà da parte del committente di accelerare le operazioni di realizzazione della centrale idroelettrica quelli che state vedendo sono anche i container che sono stati depositati e posizionati nel cantiere per uso logistico da parte del personale e quelli che stiamo inquadrando in questo momento, che ci stiamo avvicinando probabilmente sono i primi tubi che sono giunti qui in valle che sono i tubi che poi verrebbero utilizzati probabilmente per la condotta e se questo fosse vero possiamo notare la dimensione di questi tubi e anche la quantità di acqua che andrebbero a inghiottire per farvi vedere ci sto entrando in questo momento e sto camminando tranquillamente accovacciato all'interno di questo tubo che avrà il diametro di circa un metro presumibilmente, centimetro più, centimetro meno e avranno una lunghezza di 5-6 metri per tubo